Buongiorno, sono la dottoressa Pari e lavoro presso l'unità semplice di reumatologia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Il mio compito è quello di parlare degli aspetti riproduttivi nelle malattie reumatiche. Innanzitutto bisogna considerare che le malattie reumatiche frequentemente colpiscono persone, soprattutto donne, in età fertile, pertanto è necessario affrontare almeno quattro tematiche differenti, fertilità, gravidanza, allattamento, contraccezione. Per quanto riguarda la fertilità, in letteratura è riportata una riduzione della fertilità nei pazienti con malattie reumatiche rispetto alla popolazione generale e vengono presi in causa più fattori a spiegazione di ciò, il tipo di malattia, lo stato di attività di malattia, i farmaci in uso e pregressi, la compromissione della funzione sessuale, che può essere sia fisica che psicologica, e le scelte personali, anche queste a volte indotte da limiti fisici, a volte invece indotte da timori riguardo alla malattia e alla terapia. Quanto detto finora è valido sia per l'uomo che per la donna, ma nelle donne si aggiunge la preoccupazione per gli effetti della gravidanza sulle malattie reumatiche e, contrario, gli effetti della malattia reumatica sulla gravidanza e anche la preoccupazione per l'impatto che la gravidanza stessa e le terapie possono avere sulla salute del feto. Per quanto riguarda la gravidanza, per decadi alle donne con malattie reumatiche è stata sconsigliata, se non addirittura controindicata, la possibilità di avere gravidanze. Oggi, grazie alle nuove terapie che permettono di raggiungere in un nutrito numero di pazienti la remissione clinica e di ridurre la progressione della disabilità, per le pazienti reumatiche è quasi sempre possibile affrontare una gravidanza. Si consiglia comunque una gravidanza programmata, perché, nonostante tutto, l'evento gravidanza continua ad avere un rischio di complicazioni maggiori rispetto alla popolazione generale. Il rischio di avere complicazioni dipende dalla diagnosi, dallo stato di attività di malattia, dalla presenza di particolari autoanticorpi come gli anti-Rho, gli anti-SSA, gli antifosfolipidi, dalla terapia in atto. Il rischio di riaccutizzazione della malattia reumatica in corso di gravidanza cambia a seconda della patologia. Seguono una serie di slide in cui si prendono in considerazione le patologie reumatiche più frequenti o quelle con maggiore problematiche rispetto alla gravidanza stessa. Ad esempio, artrite reumatoide e artrite di opatica giovanile, nel 60-70% delle pazienti la sintomatologia articolare migliora in gravidanza e circa il 50% raggiunge una buona remissione nel primo trimestre, percentuale che aumenta di un altro 14-15% nel secondo trimestre. Remissione talmente buona a volte da riuscire a sospendere tutta la terapia di fondo. Purtroppo circa il 50% delle pazienti ha una riaccutizzazione nel postpartum con un picco circa a 8 settimane. Per quanto riguarda l'artrite psoriasica, l'80% delle pazienti migliora spontaneamente ma il 70% riaccutizza nel postpartum. Nelle spondiloartriti, ossia le spondilite anche l'osante e le artrite reattive, vi sono pochissimi dati in letteratura. La maggior parte delle pazienti sembra rimanere stabile o avere un lieve peggioramento sia in gravidanza, soprattutto nel secondo trimestre, sia nel puerpuereo. Parlando di connettiviti, consideriamo in primis il lupo ritematoso sistemico che è la connettivite per antonomasia. Purtroppo nel lupus sia in corso di gravidanza che nel puerpuereo vi possono essere spesso riaccutizzazioni, con una percentuale di riaccutizzazioni gravi che va dall'8 al 33% e con un tasso invece di riaccutizzazioni lievi dal 25 al 50%. Vi è però un messaggio positivo in questo perché comunque queste percentuali sono ridotte rispetto al passato. Ciò significa che i farmaci che oggi utilizziamo hanno la capacità di dare un maggiore controllo della malattia e anche un maggiore controllo delle riaccutizzazioni. Le riesercebazioni sono più frequenti nella seconda metà della gestazione e nel postpartum e, molto importante, è lo stato di malattia al momento del concepimento, in quanto una remissione stabile da più di sei mesi riduce notevolmente il rischio di riaccutizzazione. La sindrome di anticorpi antifosfolipidi è caratterizzata dalla presenza di anticorpi che posseggono un potere protrombotico che si esplica in gravidanza, in aborti ricorrenti e morti endotterine. Per quanto riguarda la madre, invece, si esplica nello sviluppo di un'ipertensione arteriosa severa e precoce e in una sindrome postpartum data da febbre e sintomi di tipo polmonare respiratorio. Questo grafico evidenzia la situazione prima della terapia, in cui il 90% delle gravidanze purtroppo esitavano in aborti o morti endotterine. Oggi, con la terapia, la situazione è completamente ribaltata e l'80% delle gravidanze hanno esito positivo. Due parole sulla sclerosi sistemica, perché in questa patologia la riduzione della fertilità sembra possa essere legata ad un interessamento annessiale da parte della patologia stessa, che porta anche ad un aumentato rischio di aborto. Comunque, il 61% delle pazienti rimane stabile in gravidanza e solo il 20% peggiora. In questa malattia in gravidanza possiamo avere un peggioramento di alcuni sintomi, come il reflusso e la stipsi, un miglioramento di altri, come il fenomeno di Renault e le ulcere digitali. Vi è però un aumento notevole del rischio di sviluppare un'ipertensione arteriosa, soprattutto nel terzo trimestre, e una maggiore incidenza di parto pretermine. Questa patologia è molto importante perché è forse l'unica situazione tuttora esistente in reumatologia in cui vi è una controindicazione assoluta alla gravidanza e questo accade quando questi pazienti presentano un'ipertensione arteriosa polmonare. La connettività indifferenziata è forse la patologia reumatica più frequente in età fertile. In questa patologia nel 25-30% delle pazienti hanno una reacutizzazione di malattia durante il terzo trimestre o nel postpartum, ma generalmente le reacutizzazioni sono lievi e gestibili con la terapia. Il lupus neonatale. Il lupus neonatale è dato dalla presenza e dal passaggio degli anticorpi antiro e anti-SSBLA attraverso la placenta. Questi anticorpi possono causare delle manifestazioni nel bambino cutanee, ematologiche ed epatiche. Le manifestazioni cutanee compaiono intorno al secondo mese di vita, regrediscono spontaneamente intorno ai 6-8 mesi e si tratta di un eritema. Per quanto riguarda le alterazioni ematologiche, generalmente è un'anemia, una riduzione dei globuli bianchi e delle piastrine, di solito molto lievi, che compaiono nelle prime settimane di vita e generalmente anche essi regrediscono spontaneamente. Per quanto riguarda il fegato si parla generalmente di un ittero già presente alla nascita o nelle prime settimane e anch'esso a remissione spontanea. L'unico vero problema che purtroppo persiste è il blocco atrioventricolare congenito, molto raro perché compare solo nel 2% delle persone che hanno questi anticorpi ma che purtroppo continua ad essere un'evenienza che non ha una terapia risolutiva. Per quanto riguarda le miopatie infiammatorie, i dati in letteratura sono molto pochi, il rischio di attività di malattia non sembra aumentare in gravidanza e addirittura via un 37% delle pazienti che ha mostrato un miglioramento clinico. Vasculiti. I dati sulle vasculiti sono molto poche, forse perché la maggior parte delle vasculiti colpisce preferenzialmente il sesso maschile, ad esclusione della malattia di Becet e dell'arterite di Takayasu. Comunque in generale non sembrano peggiorare in gravidanza, soprattutto se la gravidanza interviene quando la malattia è instabile remissione. Le complicazioni sono quindi rare ma possono anche essere gravi. Due parole sulla malattia di Becet che abbiamo detto essere la vasculite più frequente in età fertile nelle donne e circa il 30% delle pazienti ha una riacutizzazione in gravidanza ma il 60% delle pazienti migliora in corso di gravidanza e il 10% rimane stabile. Rimane da parlare dei farmaci riguardo alla gravidanza e all'allattamento. Ho pensato di associarli per possibilità di utilizzo. Questa prima slide vi mostra tutti quelli che è possibile usare in gravidanza e allattamento senza problematiche particolari. Il cortisone, l'idrossiclorochina, la zatioprina, la salazopirina, la ciclosporina e il certo l'izumab che è un farmaco di secondo livello, un anti-TNFA. Invece bisogna porre attenzione con i FANS e alcuni altri farmaci anti-TNF che si possono utilizzare in alcune epoche gestazionali ma non in altre. Poi ci sono dei farmaci che sono assolutamente vietati in gravidanza come il metotrexate, l'aleflunomide, il micofenolato. Altri che stiamo ancora studiando, ossia per i quali i dati attualmente presenti in letteratura sono molto pochi e non ci permettono di fare una stima del rischio. Infine, due parole sulla contraccezione. Generalmente non vi sono controindicazioni alla contraccezione di nessun tipo nelle artriti, nelle miopatie, nelle vasculiti. Molta attenzione va posta riguardo al metodo contraccettivo nel lupus ritematoso sistemico e in quanto il rischio dipende dal tipo di anticorpi presente e dallo stato di attività di malattia. Particolare precauzione va posta nella sindrome di anticorpi antifosfolipidi dove assolutamente non si possono usare preparati a base di estrogeni. Con questo concluso vi ringrazio per l'attenzione.